Qual è la connessione tra vitamine D e acne? Anche se a volte trascurato, esiste un legame diretto tra vitamine D e acne. Ottenere abbastanza vitamine D aiuta a risolvere i casi di acne. Lo fa perché la vitamine D rende il corpo e la pelle molto più sani in generale. Negli anni 30, il dermatologo Jirling Menard M.D. comprese la connessione tra vitamine D e acne. Ha somministrato la terapia UV ai pazienti affetti da acne. La terapia UV ha portato alla vitamina D in termini di dosaggio, adatto ai pazienti 10.000 unità internazionali, UI, al giorno. Era molto impressionato da come ci fossero miglioramenti nei pazienti con acne, così continuò il trattamento. Menard ha detto che i pazienti con l'acne sono migliorati sia nel loro aspetto che nel loro benessere. Certo, non ha fatto studi formali. D'altra parte, ha segnalato 83 casi che sono migliorati a seguito del trattamento che ha usato. La vitamina D è stata notata come utile nella guarigione dell'acne grazie alla sua azione specifica nel corpo. Quando la vitamina D raggiunge il livello della pelle, migliora la produzione di collagene. Inoltre, migliora la funzionalità renale e aiuta a controllare la crescita delle cellule della pelle che aiuta a prevenire l'acne e porta alla pelle che si autoguarisce e sana. Il sole fornisce una potente fonte di vitamina D secondo quanto riferito, 10 minuti di sole al giorno possono fornire una persona con la quantità di vitamina D necessaria per consentire una pelle sana e la prevenzione dell'acne. I raggi UV del sole possono anche provocare scottature solari che possono aumentare il rischio di cancro della pelle, quindi non è raccomandato più tempo al sole senza protezione solare. L'ingestione di vitamina D può essere molto nutriente anche per la pelle. Assumere integratori di vitamina D o mangiare cibo che contiene vitamine D come latte crudo o olio di fegato di marluzzo può aiutare a prevenire l'acne. Inoltre, la vitamina D migliora il metabolismo della pelle e la crescita delle cellule della pelle. Questo riduce al minimo l'aspetto delle cicatrici da acne già presenti e aiuta la pelle a riparare più rapidamente i danni dovuti all'acne. In termini di vitamina D e acne, per quanto riguarda il dosaggio specifico di vitamina D ingerita che si dovrebbe prendere, che dipende dalla persona. È importante parlare con il proprio medico di vitamina D e acne. Chiedi circa l'esatto dosaggio di vitamina D che dovrebbe essere assunto. Inoltre, il problema se la vitamina D dovrebbe essere assunto da solo o come parte di un multivitaminico è un altro problema relativo alla vitamina D e all'acne che dovrebbe essere affrontato con il proprio medico.